come era lo stadio sabato sera e sabato pomeriggio che poi alla fine anche se è finita alle 20 e ancora una volta a Bezzani come avevamo largamente anticipato ritendo e scherzando una pettinata di qua e una pettinata della stiamo a perdere pure con gli ultimi 4-5 valli ci sono rimasti tutti i zeppi si sono rimasti tutti i zeppi e insomma è questo e fino a qua siamo abituati ora 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 dobbiamo qui ci dobbiamo ci dobbiamo un po capire sì perché se no non andiamo da nessuna parte allora non sarò breve torno un po indietro torno un po indietro torno un po indietro allora qualche anno fa quando ho iniziato ormai 12 anni fa e proprio in questi giorni mi pare che erano proprio i primi di novembre sono 12 anni che che lavoro in radio iniziai a fare radio in un contesto molto particolare sapete insomma con mario e eravamo all'epoca di incontro e mi affacciavo la prima volta a questo questo mestiere capendoci poco ma ci capisco poco pure adesso speriamo che non mi sente l'editore perché però capendoci poco su come certo andare in diretta e dire cose sulla roma ci vuole chiunque può fare il mestiere nostro se si attiene soltanto a quello non possiamo prendere chiunque basta cosa c'ha qualcosa da dire sulla roma se non avremo le dirette ovviamente adesso ci saranno centinaia di e centinaia di persone che vogliono dire la loro e se gli lasci quattro ore di diretta loro per quattro ore si parlano da roma perché ti dicono tutto quello che c'hanno da dire poi dopo ho cominciato a capire certi meccanismi e io mi ricordo che il primo insegnamento che mi è stato dato in radio era che la mediocrità ammazza la radio di questo tipo in maniera particolare cioè la talk radio sportiva vuol dire mi dissero queste frasi l'importante che le cose vanno particolarmente bene o particolarmente male perché nelle estremità si fa si fa ascolti si fa se si dicono cose si dicono cose importanti e quindi la gente è molto motivata sia all'ascolto che alla partecipazione mentre il limbo questo equilibrio tra il baratro l'eccellenza non importa nulla perché la gente non è neanche ne motivata a essere incazzata né motivata a essere le fuori quindi questo è proprio stato l'insegnamento che mi ha dato quindi la ricerca dell'estremo sempre e comunque per fare ascolti per fare quindi per fare soldi con la pubblicità eccetera eccetera la ricerca dell'estremo siamo andati avanti per un po di tempo così poi si sono modificate delle situazioni perché poi è diventato lì è diventato radio insulto radio minaccia radio intimidazione quindi poi dopo non mi ci sono più trovato e quando mi è stato dato la sella quando mi è stato fatto il corso avanzato cioè della serie frase che non dimenticherò mai l'importante non è che sia vero ma l'importante è che la gente ci creda che secondo me è la base anche di un altro tipo di ambiente politico eccetera eccetera ma questo è tutto un altro discorso ognuno può seguire delle cose sue io ho deciso di smettere di fare quel tipo di radio io ho cambiato iniziai l'avventura di accademia del calcio eccetera eccetera e quando ho cambiato e invece ho cercato sempre il contrario cioè il mezzo cioè l'equilibrio tra il baratro e l'eccellenza tu dici vabbè ma quindi sei un mediocre perché tra la mediocrità e il medio stat virtus cioè ci sarà una differenza no perché mediocrità diciamo cioè è spregiativo cioè è una è uno stare in mezzo senza arte né parte senza infamia e senza lode stare in mezzo invece tra due concetti estremi vuol dire cercare un equilibrio cioè cercare il buono delle cose buone e verificare il cattivo delle cose cattive per cercare di migliorarle questo che cosa comporta che cosa ha comportato ha comportato nel corso degli anni il fatto che quello che ci è capita spesso ne parlavamo pure l'altro giorno e dario insieme che spesso te prendi insulti da una parte dall'altra cioè da chi vede il picchiere vuoto e chi lo vede pieno e che è faticoso perché almeno sai se dici che le cose vanno tutte bene ti insultano tu solo quelli che pensano le cose vanno male e viceversa invece se tu sei in mezzo spesso siccome chi vede le cose molto bene a prescindere ti dice no tu sei pessimista fai schifo eccetera chi invece vede le cose assolutamente in maniera negativa ti dice no tu pari il culo a quelle eccetera eccetera e quindi fai la fine da me devono a mente che pia insiste i pizze da una parte e dall'altra a un idiota come te potrei rispondere tante cose in effetti non lo faccio perché non a me interessi più di tanto ti suggerisco soltanto di rimanere di fare il tuo di occuparti delle tue cose senza mettere in mezzo nessun altro e sappi anche questo c'è la roma la roma è la vita mia è la mia passione è il mio lavoro quindi stai parlando del 90 per cento di quello che uno fa al giorno quindi se per te non è importante per me il lavoro e la passione praticamente tutto quindi non mai offeso però se un idiota lo stesso mi stanno bene solo quelli che siete con le cose non offendere ascolto no andrea sei stato offensivo perché a me non non pagano per coprire nessuno quindi siccome ripeto è la tua uscita offensiva e da idiota quale sei ti prego ti prego di evitare di mandarci i messaggi perché delle tue offese ne facciamo volentieri a meno se tu continui a essere offensivo poi ti rioffendo anzi al prossimo ti chiamo proprio personalmente te lo chiedo proprio personalmente perché se tu pensi da buon vigliacchietto che il tuo numero di telefono non si vede invece si vede quindi per cortesia te lo chiedo per cortesia per la terza volta a canna c'è grazie grazie